Sai che puoi riprodurre una pianta bella come questa semplicemente prelevandone un segmento di ramo? Questa tecnica si chiama taleaggio. Ciao, sono Luca Franchi e sono lidatore del progetto Il Dottore delle Piante, un programma che permetta a chiunque di divenire un esperto nella gestione e cura del verde ornamentale. Il 15 ottobre inizia il mio corso sul taleaggio sulla propagazione delle piante ornamentali ed ortive, dove ti insegnerò come sia semplice poter duplicare la pianta dei tuoi sogni, della quale ti sei innamorato durante un viaggio o semplicemente hai visto nel giardino di un tuo amico. Iscriviti e ti insegnerò tutte le tecniche e le più importanti metodologiche utilizzate dalle principali aziende viva irtiche, così potrai divenire anche tu un perfetto ed esperto propagatore. Ti aspetto, un caro saluto dal Dottore delle Piante.